buongiorno buonasera a seconda ragazzi oggi approfitto di questo clima assolutamente allegro nevoso e natalizio guardate che meraviglia per cercare di rispondere a una domanda che mi fate molto spesso ovvero qual è l'orologio della mia collezione che indosso di più allora proverò a rispondere in relazione al 2021 quindi quello che ho indossato di più doverosa una premessa io ho tanti orologi o diciamo una collezione numericamente abbastanza importante senza avere però pezzi particolarmente importanti in collezione tutto sotto i 2k per intenderci questa è una scelta questo è il mio range bene prima di rispondere alla domanda la giro a voi la rigiro a voi e vi chiedo a quanti orologi avete in collezione di qual è la referenza che utilizzate di più se volete aggiungere anche il perché ben venga mettetelo qua in descrizione qua sotto ragazzi bene allora iniziamo con il perché è l'orologio che indosso di più semplicemente perché in relazione al mio polso che è un 18 centimetri è perfetto dimensionalmente parlando perché è un orologio che fa segnare 40 di diametro lag to lag da 46 per quanto riguarda il peso lo reputo perfetto perché non è troppo leggero quindi non ha quell'idea la sensazione giocattolosa per intenderci titanio ma ha un peso adeguato quindi neanche affaticante questo è importante è un orologio che avvolge bene ha un bellissimo bracciale ha un'idea è una linea un layout estetico assolutamente retro vintage se vogliamo e quindi è piacevole piacevole anche nei colori insomma mi piace parecchio in più è particolarmente versatile perché lo trovo adattabile sia nelle situazioni siamo così eleganti che prevedono l'abito per intenderci sia in situazioni più casual tra l'altro monta un movimento miota della serie 90 quindi premium quindi ibit ed è un micro brand sottolineo sapete quanto io ami i micro brand e quanti ne abbia recensiti bene è il momento di mostrarvelo è quello che ho indossato per l'occasione ovvero il seguente lo vedete è un axios ragazzi axios è un micro brand satellite di zelos vi metto anche qualche immagine in sottofondo che è assolutamente sinonimo di qualità zelos e viene garantita anche nel diciamo così nell'azienda satellite axios questo è il flagship non so se è in sold out se lo trovate ancora comunque il prezzo era 499 dollari vi metterò anche in fondo la recensione ragazzi vabbè dai calcolate che quando intendo un orologio che indosso spesso nel 2021 questo quello che ho indossato di più l'avrò indossato tra le 30 e le 40 volte non di più va bene dai chiudiamo qui ragazzi solito discorso like condividete fate girare eccetera eccetera e rispondete alla domanda che vi ho appunto rigirato fatelo qua in descrizione un saluto alla prossima ciao